Io non so che cazzo avete combinato con qua la portar bar, ma mo io sto qua e rivolgo i sordi mia. Mamma, ma chi è questo? Mamma. Ma come mamma? Ma che sei la via? Beh? Io, io sono il padre. Mi fa piacere, la bella famiola. O voglio i sordi mia? Lascia sta l'orella! O sa lui non stanno i sordi, Renati? Oh, ma che bo... No, le spiego, signor Renatino, guardi, io e la signora Sabrina siamo stati in affari per un periodo e poi ci siamo trovati in disaccordo su alcuni investimenti del management. Ma già che? No, così lui ha deciso di spostare tutta la somma su un server segreto. Che è un server? Un server è come un grande computer all'interno del quale possiamo trovare i cosi, i bitcoin. Che cazzo sono i bitcoin? Chiede cosa sono i bitcoin. E i bitcoin sono una valuta virtuale del ventunesimo secolo, alternativa agli euro. Che cazzo so gli euro? Ma per favore, ma che gli stanno a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Oh, ma questo viene da 82, ma che cazzo ne sa? Oh. Ma no. Se vuole le spiego veramente al volo. Bravo. Io so dove stanno i soldi, ma non ho la password. Sabrina ha la password, ma non sa dove stanno i soldi. Purtroppo. Ma che cazzo è la password? Vabbè, 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 che cazzo è la password. L'ha fatto l'asile.